Di nuovo online. Di nuovo online. Quanto tempo Carlo? A ritmo continuo. Tre ore stiamo registrando. Mamma mia. Show must go davvero. Insieme a me Carlo Pagliai, il signor conformità urbanistica. E qui Brian Ietto, il signor ingegneria d'intorni. Buonasera a tutti, perché lo possiamo dire sera, 20 aprile 2018, ore 18.34. Data certa. Data certa, certificata antisismica. E potremmo essere a fare un aperitivo, e invece siamo qui a parlare di... Non lo so, di cosa parliamo? Aperitivi. Esatto. Aperitivi sismici. E urbanisticamente conformi. No, siamo qui a parlare di classificazione sismica italiana nella storia, e implicazioni che ciò ha comportato nel progettare, nell'urbanistica e nelle pratiche strutturali. O ancora meglio, questo è un video un po' più generale, dove vogliamo connettere i vari aspetti urbanistici e strutturali, un po' per dare una visione interdisciplinare e olistica, perché purtroppo prevale un approccio che è proprio a compartimenti stagne. E' vero. Cioè, è sbagliato, è bene sì essere focalizzati e specializzati, tutt'olgo non va bene e ora è impossibile, perché devi conoscere bene una trentina andabene di discipline settoriali, però è bene avere un'infarinatura generale sufficiente di tutto, ma poi essere focalizzati su certi settori. Esattamente. Ora, Brian è più focalizzato, ha un'infarinatura generale ed è specializzato e focalizzato sulla parte progettuale, strutturale, antisismica. Per quanto mi riguarda invece più l'aspetto urbanistico del macro settore edilizio, quindi non faccia, ad esempio, gli aspetti della sicurezza, dello strutturale, del risparmio energetico, perché è bene ognuno sia ben preparato sulla propria materia. Ah, beh, un'infarinatura che mi permetta anche di rispettare il lavoro altrui, perché se non so cosa fai, di cosa ti occupi, non ti posso neanche rispettare a pieno. Esattamente. Però, quindi, questo mi permette di capire l'importanza del lavoro di Carlo e quindi di collaborare con te. E infatti qui si ritorna a un approccio che è di progettazione e esecuzione integrata dell'opera. Esattamente. Quindi è un approccio che, proprio, siamo condannati, siamo condannati, è sbagliato il termine condannato. Sì, ho capito cosa vuoi dire. Che è obbligatorio, ma è anche un qualcosa che, se uno ci pensa, è anche una soddisfazione. È una soddisfazione perché ottimizzi anche l'intero procedimento. Tra l'altro è un approccio che non si è aperto molto in Italia, perlomeno nelle piccole realtà. Ora, noi si trasmette dalla Toscana, però, ecco, generalmente si tende a operare nelle piccole realtà ed è un approccio ancora lontano. Assolutamente. E non è vincente, né a breve né a lungo periodo. Allora, prima carrellata degli argomenti che trattiamo in questo video. Quindi, ovviamente, la classificazione sismica del territorio italiano, qui c'è questa bella cartografia qui accanto. presa dal sito che consiglio sempre a tutti di leggere, Ingevu, che è praticamente la Bibbia per chiunque vuole informarsi sugli studi in corso e che ci sono stati sulla pericolosità sismica italiana. Tra l'altro, ecco, strutturato bene per la condivisione dei dati, per le normative e anche per le riflessioni e articoli che pubblicano, quindi è un sito di riferimento. Assolutamente. Poi altri aspetti, le categorie di intervento da un punto di vista strutturale. Assolutamente. E infine, se vogliamo, ci vogliamo provare a fare un cenno sulle eventuali, allora, intanto l'inquadramento normativo, anche qui possiamo dare decenni perché... Sulla parte storica ti lascio la parola a te. Eh, diciamo, pillole, va bene. Pillole, sì, pillole. Però devo dire che questa mappa fa ben capire come inizialmente l'Italia era considerata non sismica, non storicamente che è sempre stata e l'abbiamo sempre saputo facendo finta di niente, ma normativamente parlando. Tutte le volte che vedete accendersi un colore diverso, che c'è stata una nuova cresificazione sismica, è semplice. C'è stato un terremoto. Esatto. Ok, infine, se ci rimane tempo perché ci siamo prefissati tre e mezz'ora... Una mezz'oretta, intensa, interessante, si spera, e poi approfondiremo magari vari aspetti in altri video. Quindi sugli aspetti anche relativi alle sanatorie o ai procedimenti di deposito e autorizzazione sismica normali e in sanatoria... Sulle sanatorie poi faremo un video a parte perché è un mondo estesissimo, però... Tra l'altro è un mondo, quello delle sanatorie, che va su base regionale, quindi noi possiamo dare... Magari scegliamo alcune regioni di cui conosciamo magari la normativa, diamo un po' delle... Infarinature che poi uno può sfruttare magari per approfondire poi nella maniera dettagliata della propria regione. Allora, da dove partiamo? Partiamo un po' dal... Dalla storia della classificazione sismica italiana. O comunque dalla storia degli eventi sismici, perché alla fine... È la stessa cosa. Anche nell'altro video che abbiamo pubblicato nei nostri canali YouTube, abbiamo detto una cosa importante, che la normativa sismica va di pari passo e spesso è postuma agli aspetti, diciamo agli eventi distruttivi. Sto cercando proprio una cronologia degli eventi. Ottimo, allora, mentre la cerchi... Ecco, se vediamo questa cartografia, ovviamente è una cronocartografia, perché c'è un tematismo che è orientato proprio sull'evoluzione nel corso del tempo dei vari eventi. Allora, qui per esempio... Lo stai facendo vedere online questo, vero? No, no, no. Ti sto facendo da gobbo. Mi ha fatto il gobbo e io non l'ho presa, eh? Esatto, perché tanto sono giuventino e quindi suona perfetto. Ok, allora, io però vado ancora più indietro, eh? Vai, addirittura. Allora, intanto cosa stiamo vedendo? Stiamo vedendo le notizie, diciamo la storia dei principali eventi sismici in Italia e si parte dal 1627 e li stiamo leggendo dal sito ingegneriasismicaitaliana.com Assolutamente. posso permettermi di salutare un grandissimo ingegnere responsabile, easy, che è Andrea Barocci, di cui nutre una stima infinita. Bene, lo salutiamo e lo ringraziamo per il lavoro che sta facendo. Assolutamente. Allora, qui si parte, in questo sito sono citate a partire dal 1627. Mi viene a mente una volta a letto che, come ho fatto per soddisfazione personale, delle ricerche storiche in Toscana e si dice nelle croniche, nelle cronache storiche, che a metà 400 circa, ora concedetemi, c'era stato un fortissimo terremoto nel Veneto con un presunto epicentro zona Verona e che fu avvertito con danni rilevanti, quindi qui ti lancio poi la verifica futura, anche con dei danni verificati a Pisa, per cui fu un evento distruttivo su scava nazionale, quindi per dire, l'Italia è storicamente una terra di eventi sismici distruttivi, non parliamo del Vesuvio ai tempi di Pompei, cioè nuvola piroclastica che mi distrugge probabilmente l'intera area, più la zona dell'Etna, cioè, diciamo una zona... Messina, e poi non serve neanche andare troppo indietro. Fermiamoci al 900, come in questa cartografia, qui si vede tutta la Calabria e la punta di Messina, campita nell'evento 1909, perché si dice il terremoto che distrusse Messina, ma ha distrutto anche Reggio, cioè Reggio Calabria, furono distrutte entrambi, quindi addirittura questa cartografia mi viene da dire che probabilmente i danni furono estesi anche nella regione Calabria, cioè nel 1909 mi dicano tutta la Calabria, quindi da questa cartografia si va a vedere che è tutta sismica. Poi andiamo avanti con i terremoti qui sull'Appennino Tosco, Emiliano, Umbro, anche lì fenomeno notevole, Garfagnana, Mugello, zone storicamente... 1914, 1916 e 1814 la Garfagnana. Ottimo. Scala Mercalli, a quei tempi usava Scala Mercalli, che non misurava l'intensità del sisma, ma l'intensità dei danni, quindi da 1 o poco 10 devastazione totale, Scala Mercalli nella Garfagnana è stata considerata 10. Ok, quindi diciamo una stima a vista postuma, non strumentale. Non strumentale, con quello che avevano. Esatto. Poi per la classificazione sismica, per le attuali mappe di pericolosità, è stata inventata una correlazione dove, a seconda del terremoto e della zona, si estrapola una magnitudo. E quello è per paragonarla ai terremoti moderni, perché ricordiamo che le nostre mappe di pericolosità sismica attuali sono in continuo aggiornamento e ogni tot anni verranno riaggiornate al fine di rappresentare al meglio la pericolosità sismica dell'Italia. Ricordiamo brevemente che questa è la pericolosità sismica. È solamente un indice della probabilità che un determinato terremoto avvenga in un determinato lasso di tempo in quella zona. Un po' come nell'Italia, è un tempo di ritorno. Esatto, un tempo di ritorno. Per un edificio di civile abitazione nuovo, che quindi vive per 50 anni, ha un 5% di velocità che questo evento sismico avvenga nei 50 anni, il tempo di ritorno di riferimento delle attuali normative è 475 anni. Ok, molto bene. Allora, andando avanti. Andiamo avanti e andiamo a vedere la classificazione sismica. Aspetta, perché questa cartografia è molto interessante. Allora, andando avanti, si vede la correlazione fra gli eventi sismici che si vede nella leggenda e le normative, che ovviamente sono normative molto spesso emanate, un po' anche sotto la spinta emotiva, ma anche per dare una risposta all'opinione pubblica che esige che non si ripeta più. Spesso erano norme di ricostruzione. Esatto. Ma non erano norme che avevano un impianto lungimirante e previsionale, un po' invece come il Giappone. Esatto. Perché non si pensava a prevenire. Si ricostruiva e diceva, ora che si ricostruisce, costruiamo con dei criteri. Un po' un paradosso. Perché se uno aveva programmato la cosa, molto evidente tanti drammi, tanti costi erano evitabili. E quegli stessi costi li potevi rimandare nella prevenzione. Oppure eran costi che avrei sottratto dai futuri costi delle vite umane, dei danni della ricostruzione, che prendiamo gli ultimi vent'anni, comunque sono diventati consistenti. Ok. Con poi c'è tutto il problema delle Newtown. Faccio un esempio parallelo, ma che dia l'idea di... diamo un numero. In California la prevenzione sismica in attesa di biguana è infinita. Hanno fatto un calcolo, lo stanno spendendo milioni, miliardi di dollari in prevenzione. Hanno visto che ogni dollaro, nella loro realtà, che spendono in prevenzione, ne risparmiano nel lungo periodo 6. 6 a 1. Quindi c'è un rapporto costo-beneficio che è interessante. Immenso. Esatto. Bisogna però essere lungimiranti. Non si può pensare a... E qui sono polemico, ma un frecciatino di tanto ci vuole. Ah, legislatura dopo legislatura. Serve un illuminato. Serve un piano. Che veda oltre le successive elezioni e pianifichi. Faccia un po' di dispiacere elettorale, ma pianifichi. Serve prospettiva. Esatto. Tra l'altro l'Italia condivide con il terzo mondo un triste primato, che è quello dell'abusivismo edilizio. Esatto. Ma non tanto la difformità modesta, che magari è il tramezzo del bagno che è spostato di 30 centimetri. Magari fossero i problemi. Il problema è che abbiamo, soprattutto in zone e territori come il Mezzogiorno, abbiamo diffusi ed estesi fenomeni di lottizzazione abusive. Cioè si sta parlando di città, di periferie, sorte senza pianificazione. E ovviamente domandarsi, ma da un punto di vista strutturale, come stanno queste cose. Tant'è che siamo arrivati al condono edilizio e il condono edilizio si dovette porre il problema sulla idoneità statica. Qui dall'altro sull'idoneità statica abbiamo fatto un apposito video che è pubblicato nel mio canale YouTube. Che dovete vedere assolutamente. Anche quello molto easy. Però ecco, anche lì diciamo il problema dell'idoneità statica è una porta ancora aperta perché nel momento in cui queste domande di condono ce ne sono ancora oltre 2 milioni del primo condono 85 pendenti ancora non hanno la definizione anche degli aspetti strutturali. Cioè dov'è la dichiarazione delle donne stati? E soprattutto rispetto a quale norme e criterio la faccio? Perché abbiamo abusi fatti magari nel 62. Domanda di condono presentata nell'85. Oggi è 2018. Questa casa che prestazioni strutturali ha o avrà in caso di risposta? E quali devo garantire? E qui anche qui ancora ho messo e detto negli altri video Discrizione e poi c'è la dualità prestazione e prescrizione perché alla fine molto spesso in Italia si prendono le norme diciamo prestazionali e le travestiamo da prescrittive quindi diventano duali, hanno una doppia aspetto. Ritornando sul tema la normativa diciamo la normativa chiamiamola sismica strutturale inizia diciamo ad assumere certi contorni abbastanza interessanti e diciamo nel periodo del fascismo cioè con le norme a partire dal 35-37 ora vo' a memoria ma qui Brian mi evidenzia i regi decreti soprattutto il 640 del 1935 il 2105 del 1937 in più ecco importante il regio regio regi tutte e due 2228 e 2229 del 39 quindi insomma c'era già una vivace normativa ma per l'epoca era magari all'avanguardia e oggi la vediamo diciamo con gli occhi e con le tecnologie attuali l'importante norma è quella del 62 immensa ma nel 62 che evento sismico era successo? ti viene a mente? è preso un castagna c'è la cartografia nel 62 verde siamo qua dillo a te siamo io vedo io sono un po' daltonico ora ti voglio fare lo sgambetto me lo faccio a me certo io ti faccio da gobbo e tu mi tradivi così perché è un colpo gobbo esatto allora io vedo verde però ditemi voi c'è la Campania e la Puglia quindi sono eventi che comunque ancora una piccola spinta sismica dà una piccola spinta al legislatore nel dover fare normative andando avanti si va ecco 67 c'è una circolare allora dobbiamo dire che soprattutto prima della legge sul condono edilizio le circolari ministeriali e lavori pubblici avevano un enorme valore soprattutto di anche autentica e di proprio valore esecutivo erano fatte anche bene assolutamente molto scritte bene poi dopo ecco questa è del 67 cosa era successo? novembre 67 c'era stata la legge ponte legge ponte che viene fatta perché? perché c'è stata la frana c'è una serie di concause che portano alla legge ponte ma anche lì la goccia fatta a boccare il vaso è la frana di Agrigento e quindi la legge ponte il futuro decreto sugli standard urbanistici che arriva l'anno dopo un decreto attuativo quindi una serie di atti che il legislatore non poteva più rimandare era con le spalle al muro tra l'altro con gli standard urbanistici c'è un interessante video che abbiamo fatto con l'urbanista Andrea Pantaleo e che consigliamo di vedere nel suo canale youtube cercate Andrea Pantaleo e lo trovate però ecco il principio è sempre il solito abbiamo una normativa figlia delle disgrazie prevalentemente figlia delle disgrazie e andiamo avanti si rincorre la disgrazia invece di anticiparla proprio così poi siamo alla ecco ora si comincia a toccare le norme chiamiamole le possiamo chiamare fondamentali la 1086 assolutamente del 71 ancora oggi segna le basi della progettazione esatto che comunque possono state travasate e copiate in tutto e per tutto nel testo unico per l'edilizia assolutamente poi la 64 del 74 e anche lì si comincia a incidere proprio anche sulle norme tecniche nel costante revisione nella classificazione sismica e quindi nella relativa revisione e via e poi si va avanti con una serie di decreti che vanno a integrare assolutamente poi andiamo avanti ecco siamo a fine degli anni 70 queste sono leggi regionali Friuli Venezia Giulia del 77 introduce il metodo POR che è uno dei metodi utilizzati fino a poco tempo fa sugli edifici in muratura poi c'è la legge dell'81 anche queste a seguito di creazione di zone sismiche della regione Basilicata, Campata e Puglia sempre dopo ovviamente e poi negli anni 80 ci sono delle normative molto importanti sulle disposizioni geotecniche che si usano tutt'ora eccole qua per poi arrivare agli anni corro troppo forse già agli anni 80 devo dire qualcosa sugli anni 80 allora c'è un importantissimo spartiacque invece ecco è fatto benissimo ad andare agli anni 80 terremoto del Friuli terremoto che allora io avevo portato calzoncini all'asilo nell'80 non me lo ricordo però nell'80 questo terremoto fece risuonare tutta l'italia fu avvertito in tutta l'italia terremoto disc ecco questo fu distruttivo veramente per quella regione e quindi è stato un terremoto che anche qui ha dato l'impulso a aumentare a estendere alla classificazione sismica in questa cartografia che si vede si vede questa campitura grigia è l'ultima 81 84 immensa e che praticamente se la vediamo stratificata con tutti ha fatto a dichiarare sismiche buona parte del lì cioè ha fatto un'estensione notevole su buona parte d'italia praticamente tutto l'appennino e tutto ciò che era bianco brian cioè e quindi tutto ciò che è rimasto bianco fino al 2003 tutto quello lì era considerato non sismico facciano classificato ok faccio notare l'emilia tutto quello che è stato colpito dal terremoto del 2012 era un terremoto che è entrato nelle nostre nelle nostre conoscenze per via dei campanili e dei campanoni industriali assolutamente lì si è scoperto un altro tipo di danno che signorava prima si costruiva il capannone che la massima efficienza a basso costo quindi dei castelli un po di carte perché non c'erano carichi orizzontali se non il vento si poteva costruire velocemente rapidamente a basso costo si è visto l'effetto devastante di un terremoto su queste regie di strutture dove bastava che il pilastro e la trave perdessero un minimo in connessione e si smontavano quindi l'unione cedeva e a quel punto diventava e attenzione bastano piccoli accorgimenti per risolvere quella cosa ma si ignorava non era dovuto per legge non si faceva per esempio mi può confermare questa cosa che mi hanno detto alcuni colleghi dell'emilia vale a dire trave di campata travesse della pannone sono alte anche un metro appoggiate ai pilastri e che ha visto c'è i tirafondi di ricollegamento per il semplice fatto e non avevano il bullone di chiusura e di connessione per non aver quello la spinta sismi aveva fatto si sfidare per cui sono cascate oppure un altro tipico collegamento era la il pilastro che veniva con una forchetta dove veniva inserita l'anima della trave a t o quest'elemento qui appena fa così queste due forchette hanno pochissima rigidezza e quindi veniva si aprivano e si sfilavano c'è un'immagine emblematica dove una trave di un capannone si appoggia sui i cosi le immobili che poi anche poiché che tenevano sul parmigiano invece di proteggere alla fine le scaffalature che sostenevano questa copertura ed è stata un'immagine simbolo scaffalature portanti mi hai fatto venire a mente una cosa posso salutare un amico che è proprio di quella zona e lavora in quel settore certo e che potrò farò conoscere perché si occupa proprio della sicurezza dei capannoni dell'interno di ciò che non della struttura ma dell'interno ed è le scaffalature sismiche sono un grande problema adesso di tante anche per la sicurezza dei luoghi di lavoro dufri e via dicendo assolutamente e salutiamo quindi giovanni pagliardini della di quella zona che lui sta lavorando al capannone sicuro allora siamo arrivati ai giorni nostri nel 2003 succede una cosa importante sì prima del 2003 c'è il dm 96 ok il dm 96 ha una parte non sismica una parte sismica che la facoltativa per tutte le zone non ritenute sismiche introduce per la prima volta le tensioni lo stato limite le visite che stati limiti che però erano facoltativi quindi si rimane con le tensioni ammissibili ignorate assolutamente nel 2003 succede un fatto nella memoria di tutti drammatico termose san giuliano la due mi pare o 2000 2002 avesse del 2002 mi pare 2002 però non sono sicuro muoiono purtroppo tanti bambini nel crore di una scuola scelta di pancia la protezione civile si sostituisce per la prima volta a chi ha l'incarico di formulare le normative vado a dire il aiutami sono stanco normative di pubblica incolumità e quindi sono il cosa perché è successo perché c'era stata anche la riforma del titolo quinto quindi erano state ridisegnate e riconfermate e chiarite più che altro le competenze di legislazione esclusiva o concorrente le regioni quindi o pcm 32 74 che introduce un sacco di cose anche molto interessanti ma che di fatto non entrerà mai come normativa mai in in opera c'è per la prima volta i discorsi di rischio sismico pericolosità e tutto ma non viene ma entra non entra mai veramente in rinvia a successivi decreti che arrivano ovviamente con anni di ritardo assolutamente ne riparliamo al 2008 2008 guarda caso dopo il terremoto dell'aquila i terremoti purtroppo sono incentivi a normare con le norme sono pronte in discusione disegno legge primo luglio 2009 a seguito del terremoto dell'aquila dell'aprile 2009 guarda i collegamenti cambia radicalmente la classificazione sismica italiana facciamo vedere la classificazione attuale via qui dove vedete ormai l'italia così era quasi tutta anzi tutta sismica perché anche il grigio che vedete è una zona sismica 4 a bassissima sismicità ma non non sismico ok diciamo allora col con l'ordinanza 2003 che però all'anno l'ordinanza 2003 disse subito comunque sia non ci sono più zone non classificate intanto beccatevi la classe 4 di default poi la 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 classe la definirete comunque rimanete in classe 4 oppure salirete di livello in base agli studi e le regioni faranno quindi siamo arrivati a questa cartografia nel 2008 quasi tutto diventa sismico parliamo di casa mia look diventa sismico col diametro 2008 o diciamo meglio è questa anche alla luce di un import sulla classificazione sismica del 2003 collegata al 2003 ovviamente perfetto basta deroghe qui entra in vigore è tutto diciamo si passa cambia la realtà esatto si passa da tre gradi di classificazione anzi erano le tre categorie che invece diventano quattro classi e comunque sia le zone non classificate mi diventano 4 4 allora vi segnalo un importante sentenza di cassazione penale che ora non mi ricordo gli estremi ma è uscita pochi mesi fa che ha dato un principio che si collega al testo unico quell'edilizia ed è visto testo unico mi dice se sei in zona bassa sismicità mi fa il deposito se sei in zona quindi via residuale se in zona sismica perché non è che mi dice c'è zone ad alta bassa sismicità mi dice zone se devo fare interventi strutturali in zone a zone sismiche mi chiedi l'autorizzazione così è per esempio nel lazio ma non in toscana se sei ma che dice proprio anche testo unico testo unico ti dice se sei però in zona bassa sismicità puoi fare il deposito allora finché avevamo tre sui livelli avevamo diciamo classe 1 e 2 più alte a zona sismica normale la la terza e cioè l'ultima era quella bassa sismicità quando è successo questo quindi quando è arrivata l'ordinanza e ha istituito le quattro classi qual era a questo punto ci siamo ci si è posti il problema di quale fossero le zone a bassa sismicità la stazione intervenuta ha detto no non sono le ultime due non è scritto da nessuna parte il testo unico non dice questo è tant'è che ahimè c'è una condanna anche pesante e dice che è da ritenersi solo come l'unica zona bassa sismicità l'unica a categoria più bassa cioè a questo punto la 4 quindi questo va a ridisegnare le questioni di responsabilità in tutta tutte le zone certo e a questo punto c'è da domandarsi a ma allora io devo applicare l'autorizzazione sismica dove c'è classe 123 qui ora parte fatte poi le regioni anzi i regolamenti su base regionale hanno in qualche modo cercato di semplificare intervenendo però questa è la stazione penale ha alla sua importanza e quindi io che vado a depositare un dato ecco pratica in zona sismica 3 toscana e quindi per la toscana zona 3 o il deposito e non l'autorizzazione rischio di persona e no io più che altro mi domando ma l'efficacia l'efficacia amministrativa di quell'atto sa l'autorizzazione è un atto espresso io domando genio civile risponde ora diciamo genio civile in gergo ma sono gli uffici tecnici regionali qui genio civile risponde ma quando faccio un deposito è un e fare una separazione esatto tipo al pari di una scia esatto posso essere sorteggiato ma se non vengono sorteggiato il controllo è prettamente formale tra l'altro pillola importante il decreto scia 2 nell'allegato se l'andato a vedere nella c'è una una sottosezione che riguarda gli aspetti sismici mi dice che le pratiche di autorizzazione sismica rimangano in regime autorizzativo nulla è cambiato quelle che sono in ambito di deposito sono annoverate nella a livello di scia cioè io la leggo così e non ho la pretesa di avere la verità però mi sembra di capire che il legislatore col decreto scia 2 abbia detto abbia ribadito il concetto che tutti gli atti o c'è l'autorizzazione espresse se no sono tutti il regime comunicativo soggetto a scia e allora mi domando ma il deposito che dice il testo unico è diventato scia ha fatto una mutazione genetica potrebbe benissimo secondo me è così perché perché il decreto scia 2 è una norma di pari livello al testo unico un decreto legislativo ed è una norma sopravvenuta quindi in diritto vale quella ultima arrivata ecco perché è un interrogativo e su cui c'è da domandarsi ma allora le pratiche deposito comunque vanno depositate in regime di è una sorta di scia ma qui ora tocca alle regioni a questo punto adeguare il procedimento e modulistica questo è un permette permette ma un'insinuazione su cui una provocazione anche un punto uno spunto di riflessione e direi anche basta perché se no è assolutamente esatto assolutamente che sarà proprio l'infarinatura di come si è evoluta si la normativa ora siamo al 2018 mesi fa approva stata approvata le nuove le arme tecniche 2018 che è anche pubblicata in gazzetta quindi e sono già operative un mese solo di transitorio che sostanzialmente raffinano un pochino quello che era già stato fatto nel 2008 con le ntc 08 cambiano filosoficamente per certi aspetti gli interventi sugli esistenti allargando un po le maglie della filosofia che è meglio o meno ma permette di fare tutto ma fare tutto magari ne parleremo poi in altre dirette volentieri io ringrazio carlo pagliai ricordo il tuo canale youtube carlo pagliai la sua pagina facebook il suo sito internet carlo pagliai con formità urbanistica e il suo canale instagram carlo pagliai troppo buono e linkedin carlo pagliai con me brian yetto fondatore gestore anima di ingegneria dintorni ingegneria dintorni che canale youtube gruppo nonché pagina facebook sito internet infine tuo profilo personale ovviamente su facebook e instagram non che linkedin esatto basta basta direi che tutto ne presente sarà uno dei tanti video che farò insieme a carlo che ringrazio e naturalmente iscrivetevi sui nostri rispettivi canali youtube così potete anche commentare e ricevere i preavvisi delle prossime dirette dei prossimi video ok chi non ci segue non è giocatore urbanisticamente parlando e non è certificato antisismico per esatto c'è la tazzina certificata giù e ora vado a prendere a presto diciamo in questo video non ci ha assaltata la la gatta c'è la carta geomersa ok allora ai saluti ci vediamo al prossimo video e a quanto quando presto presto vuoi già che dico la data di venerdì mi piace ogni due tre settimane ci troviamo va bene magari allora iscrivetevi nei canali scrivete commenti e quesiti nei prossimi video e magari proponete qualche argomento vai ok a presto a presto ciao